La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che ha risolto il grande problema dell'apostasia grazie alla risoluzione del sacerdozio, presenta delle verità importanti che sono state interpretate in modo confuso da molti filosofi. Prima di tutto il Cristo è il primogenito e non è figlio dello Spirito Santo, ma è figlio di Dio. Egli non era un essere reincarnato, ma prese il suo corpo di carne a Bethlehem, mentre prima di allora fu il creatore di questo mondo, quando era in spirito. Dietro il comando del Padre nella Bibbia troviamo diverse predizioni dell'avvento e della missione di Cristo. In Genesi 49, versetto 10, Giacobbe parlò dell'evento di Shilok, che è Gesù Cristo. Il sacrificio dell'agnello, per esempio, senza difetti nella celebrazione della Pasqua di Israeliti era una rappresentazione evidente del sacrificio di Gesù Cristo. Anche Adamo e Noè praticarono questo. Settecento anni prima della nascita di Cristo, Isaia predice la sua vita. Egli era descritto come un uomo normale, un uomo di dolore che ha portato il peccato di molti ed ha interceduto per i trasgressori. Gesù rappresenta il Mediatore tra noi e il Padre, fin da quando Adamo ed Eva lasciarono il giardino di Edel. Il Geova del Vecchio Testamento è il nostro Salvatore. Egli è parlato con Abramo, con Noè, Enoch, Mosè e tutti gli altri profeti. Egli è il Dio di Israele. Il profeta John Smith fece una revisione su Esodo 6, versetto 3, dove si chiarifica che Dio Onnipotente era Geova. E' evidente che Egli parla come se fosse il Padre. Perché tutto questo? Poniamoci questa domanda. Non dimentichiamo che Adamo ed Eva lasciarono il giardino dell'Eden e non potevano stare più alla presenza di Dio. Così vale per tutta l'umanità e da quel punto in poi subentra la figura di Gesù che intercede, comunica con il Padre per noi. Infatti noi membri della Chiesa preghiamo nel nome di Gesù Cristo e ci rivolgiamo al Padre. Un altro accorgimento importante che conferma un dato di fatto è ricordando la storia della prima visione di John Smith che vide Dio Padre e Gesù Cristo come due esseri distinti e parlò solo con Gesù, dopo che Dio presentò Gesù stesso. Il Salvatore rispose alla domanda di Joseph e dette le necessarie istruzioni. Un'altra situazione notevole è la dichiarazione di Re Beniamino nella storia del Libro di Mormon in Mosia 5, versetto 7 nel definire Gesù come nostro Padre perché rinasciamo spiritualmente grazie alla sua espiazione per i peccati del mondo. In Nostra Alleanza 93, versetto 1 al 5, Gesù si dichiara Padre. Effettivamente egli riceve la pienezza di gloria del Padre ed ha creato i Cieli, la Terra e tutte le cose. Come è descritto sia nella Bibbia che nei Libri di Mormon, parliamo adesso dell'immortalità. Non fu solo Gesù che risorse, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi apparvero a molti, come Matteo spiega nel capitolo 27, versetti dal 52 al 53. Solo Gesù poteva avere il potere sulla morte, cioè il dono della vita in se stesso. Noi tutti possiamo risorgere e superare la mortalità, grazie a Lui. Così egli ricevette la sua pienezza di essere un Dio dopo la sua mortalità e vita nella Terra dove aveva un corpo soggetto al dolore, come tutti noi lo abbiamo adesso. Dopo la sua resurrezione e trasformazione in essere immortale e glorificato, stessa cosa varrà per coloro che, per fedeltà, divengono figli di Dio. I nostri corpi sono essenziali per la pienezza e la continuazione dei nostri posteri in eterno, come diceva il profeta Joseph. Phil Smith, in Doctrina di Salvezza, nel capitolo 2. La storia di Gesù è autentica. Anche i suoi nemici ammettono che è i visse. Il libro di Mormon dimostra che Cristo è vissuto, oltre le testimonianze del Decco e del Nuovo Testamento, anche i moderni profeti hanno venuto Cristo. Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Ritton e altri testimoni al mondo. Il 3 aprile 1836 Joseph Smith e Oliver Cowdery si trovarono alla presenza del Signore Gesù Cristo nel Tempio di Kirkland e gli udirono la voce. Lo stesso successe il 16 febbraio 1832 a Joseph Smith e Sidney Ritton. Il Signore dicara a tutto il mondo, ogni anima che abbandona i peccati e viene a me e invoca il mio nome e obbedisce alla mia voce e osserva i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che io sono. Questa è una dichiarazione bellissima. In conclusione vorrei trattare dell'ultimo argomento, sul regno di Dio sulla terra. Quando Cristo ritornerà per la seconda volta, in veste ufficiale, tutti i popoli della terra gli saranno soggetti e egli avrà il domino su tutto il mondo. Durante il millennio, l'unico regime politico che regnerà nella terra sarà quello di Gesù. La Chiesa di Gesù Cristo regnerà per sempre sulla terra, cioè il regno politico sarà dato alla Chiesa. Durante il millennio, dice il profeta Joseph Phil Smith, in Dottrina di Salvezza, volume 1, capitolo 14, tutte le persone che non fanno parte della Chiesa saranno governate e molti dei loro governatori che saranno eletti potranno essere membri della Chiesa oggi. La Chiesa è organizzata in questa dispensazione. È un piccolo numero di esseri umani, siamo pochi milioni. Cioè siamo alle porte del millennio o della seconda venuta di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è stata organizzata il 6 aprile 1830 a New York con sei membri, tra cui ovviamente Joseph Smith, che fu il leader, chiamato reggente, traduttore, profeta, apostolo di Gesù Cristo ed anziano della Chiesa. Dopo qualche mese, in giugno, ci furono le prime conferenze. Dopo circa un anno dall'avverimento, si ordinarono i primi sacerdoti della Chiesa, sono al sicuro. I giovani di Sion rimarranno fedeli alla Chiesa e la Chiesa progredirà sempre, anche in prosperità. Il regno di Dio sulla terra è unito e trionferà gradualmente, nonostante i poteri del diavolo sono evidenti, massicci. La Chiesa di Gesù Cristo, che oggi presenta pochi milioni di membri, trionferà alla seconda venuta di Gesù Cristo. Grazie e alla prossima.